È arrivato il momento di dire basta quello che purtroppo vediamo ogni anno, basta un'alluvione, una nevicata, anche il terremoto a mettere in ginocchio regioni intere, in particolare l'Abruzzo. Il nostro territorio oramai è in ginocchio, sia da un punto di vista sociale ma soprattutto da un punto di vista infrastrutturale, va rilanciato un piano di investimenti pubblici per mettere in sicurezza il territorio. Per cui Teramo sarà l'occasione per gridare forte, partendo dalla società civile, il bisogno di invertire la lotta. Non possiamo immaginare la crescita per questo paese se non si parte dalla messa in sicurezza del territorio ma soprattutto delle vite degli uomini e delle donne che questo territorio lo abitano. Un grido che arriva forte soprattutto dai Vigili del Fuoco, quegli angeli della speranza che dopo i primi attimi della strage di Rigopiano hanno salvato vite umane e purtroppo hanno dovuto dopo tante ore di lavoro anche estrarre corpi senza vita. Ebbene, quei Vigili del Fuoco sono i primi a dire che è arrivato il momento di invertire la lotta, che il corpo di Vigili del Fuoco non può essere un corpo di precari, non possono aspettare da anni il rinnovo del contratto nazionale ma che su quel corpo che è il massimo dell'umanità che questo paese può vantare, su quel corpo va ricostruito il nostro paese. Non possiamo solo lavorare sull'emergenza, dobbiamo cominciare a prevenire, a lanciare un piano strutturale di risorse per il nostro territorio, un piano che non sia solo ed esclusivamente abruzzese o del centro Italia ma che coinvolga tutta l'Italia.